Oddio, Noemi, Noemi che hai? Noemi, Noemi, Noemi! Ma che schifo! Oddio, 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 oddio! Ciao amici, finalmente sono uscite le mie uova di Pasqua in tutti gli storeline e su Amazon. Mi sta chiamando Noemi? Noemi, pronto? Non sei contomato? Non puoi capire, non puoi capire, non puoi capire. Allora, sono arrivato nella casa sull'albero, ok? Solo che ho letto questo. Della lavagnetta Vuoi giocare ma c'era scritto Casa di Noemi non sto capendo Charlotte devi venire subito Charlotte c'è una donna bianca Te lo giuro di Charlotte devo schiaffare Noemi aspetta 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 Noemi ferma arrivo arrivo Ragazzi che sta succedendo Devo correre da Noemi subito Forza questa camera vai corri Ok ragazzi Sono arrivata a casa di Noemi Adesso voglio vedere dov'è Perché mi ha riattaccato così da niente È il suo telefono Aiuto È Noemi Ragazzi è Noemi 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 dove sei Noemi Aiuto 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 mi vuole buttare giù Aiuto mi Charlotte Perché mi vuole buttare Noemi non so se vuole il suo figlio Ma poi te lo fermo Francesca Ti prego Trovalo Per favore ferma Stai ferma Stai ferma Stai ferma Stai ferma Noemi non so se vuole il suo figlio Ragazzi non so se vuole il suo figlio Dov'è che è? Non lo so ragazzi se butta giù Noemi Io non lo so Ma che cosa fare ragazzi? Che cosa devo fare? Dov'è suo figlio? Non lo so dov'è Prendiamo sul porto veloci C'è nessuno? C'è il cammino acceso ragazzi Oddio è qua È qua ragazzi Mi devo riuscire a prenderlo il primo possibile Devo fare veloci Scusa Scusa Potrei avere il tuo bambino Quello che hai in mano per favore? Potrei avere il bambino Che hai in mano per favore? Vuoi dare il figlio Di quella donna per favore a me? Oh oh Sì Che bravo cane che sei Grazie Davvero bravo Oddio Posso prenderlo? No Ma prendo Hai detto che posso prenderlo? In cambio ti do un crocadino Un osso Ok? Ah ho capito Vuole giocare con me ragazzi Che divertente Vabbè la prendo adesso Forza forza Oddio 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 Lasciami 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 Devo portare il bambino a noi Lasciami No no Cameraman aiutami Cameraman aiutami Cameraman Aio Aio Cameraman aiutami Aio Cameraman Cameraman Aiutami Cameraman Per favore aiutami Al Absolute Aiutami Cameraman ει aiutami cameraman aiuto aiuto cameraman cameraman lasciami lasciami per favore puoi lasciarmi lasciami no apri cameraman apri aiuto cameraman apri 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 Aiuto! Aiuto! Ti prego! Ti prego! Guarda! Guarda! Guarda lì! Guarda lì! Guarda lì chi c'è! Ti prego! Ti prego! Molto bene dov'è? Charlotte! Charlotte! Riferatemi! Oddio! Oh mamma! Ok! Molto bene! Molto bene! Come hai fatto? L'hai portata la bambola? Ma... Ok! Faccia qua non c'è nessuno! Chi è che ti ha rifiuso lì? C'è un cane! C'è un cane! Ma che cane che mi ha riuso là dentro? E dov'è il cane? Non lo so dove è il cane! Come non c'è dov'è il cane? Non lo so dove è il cane! No! Noi in teoria il cane è andato via! Siamo al sicuro! Siamo al sicuro! Ok, so chi ha venuto! È uscito davvero! Ahhhhhhhh! Sono uscito davvero! No! Sono uscito! Dove siamo? Dove siamo? Aspettami! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Andiamo! Forza, cameraman! Corri! Charlotte, vieni con me, chiedi! Oh, mamma! Che schifo! Ma poi la stiamo mangiando il... Stiamo, ragazzi! Ragazzi, adesso noi proviamo a calmarci un secondo, non usciamo perché sennò facciamo solamente dolly. E ci vediamo nel prossimo video. Che mio amore, che i suoi genitori, li chiediamo di tornare a casa velocemente, ok? Metterà!